Allora, come si fa a prendere gli autobus ad Abu Dhabi? Molto semplice, bisogna fare una tessera ricaricabile, si chiama Afilat ed è una tessera, Afilat vuol dire autobus in arabo, e praticamente questa tessera la vendono un po' dappertutto nei centri commerciali alle fermate degli autobus, non tutte ma quasi, ci sono delle macchinette proprio che te la fanno direttamente, ce ne sono di due tipi, quella permanente e quella temporanea, e praticamente si fa questa tessera che ha un costo che varia dai 5 ai 10 dirham, quindi praticamente da 1 euro e 20 a 2 euro e 50 fare la tessera e poi si ricarica. Allora gli autobus a Abu Dhabi costano 2 dirham che sono 50 centesimi, quindi in pratica ogni volta che prendete l'autobus si passa questa tessera sulla macchinetta e la legge e ti dice anche quanto ti è rimasto sulla tessera. Andare all'aeroporto si prendono gli autobus a 1 o a 2, a seconda di dove vi trovate, e costa 4 dirham, che praticamente è un euro, quindi una cavolata per fare 30 chilometri dalla città fino all'aeroporto, è veramente fantastico. Gli autobus li vedete perché sono tutti bianchi e blu, per cui è semplicissimo, sono pulitissimi, vedete, efficientissimi, puntuali, quindi proprio una meraviglia. E ricordate sempre di ripassare la tessera una volta che scendete, perché sennò poi vi caricano un costo maggiorato.